Pescara con la sua provincia è tra le tre città italiane con il clima più mite. Lo rivela una ricerca del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che ha messo a confronto le performance climatiche delle 107 città capoluogo di provincia in tutta Italia. Il risultato è un indice del benessere climatico che tiene conto di 10 indicatori come ore di sole, ondate di calore e umidità relativa, nonché raffiche di vento, brezza estiva, giorni freddi, piogge e nebbia. Cosa determina questa situazione? Innanzitutto la configurazione geografica del posto, perché Pescara è bagnata dal mare Adriatico, che molto spesso durante le fasi invernali mitica un po' le temperature, soprattutto nel periodo freddo, e poi la città di Pescara in particolare è riparata dalle perturbazioni atlantiche che impattano sulla catena appenninica e sono spesso precedute da correnti di libeccio e il garbino, che favorisce un aumento delle temperature. Quindi c'è un clima piuttosto gradevole in riva al mare, questo è vero. Abbiamo visto come l'inizio di questa primavera sia stato molto mite, la gente ha iniziato anche ad andare al mare in questo fine settimana. Che cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda il clima nelle prossime ore? Sicuramente dopo un weekend all'insegna del bel tempo, temperature al di sopra delle medie stagionali, a partire da stanotte è previsto un peggioramento perché giungerà un impulso di aria fredda che toverrà terreno fertile per quel che riguarda l'energia in gioco, l'energia presente, tanta umidità e temperature al di sopra delle medie stagionali e quindi avremo forti venti, soprattutto in notate nella giornata di martedì, temperature insensibili e diminuzioni, non mancheranno dei rovesci accompagnati da forti raffiche di vento e ci saranno anche delle mareggiate. Ma la caratteristica principale sarà proprio la diminuzione delle temperature anche di oltre 10-12 gradi rispetto ai valori che si registrano in questo momento. Il sole tornerà quando? Dobbiamo aspettare perché probabilmente l'instabilità continuerà a manifestarsi almeno fino alla giornata di giovedì con temperature al di sotto delle medie stagionali.